Nuova sfida per te, mortale! Vieni sopra di me! Tunisiani dobbiamo affrontare una nuova sfida del pianeta degli SCP E qua il pianeta ci ha fornito un bel po' di legno, devo dire Non me l'aspettavo tutto questo legno Troppo, davvero, troppo legno Mamma mia, avete visto quanto legno E come funziona questa modalità? Per chi non lo sapesse, per chi non ha mai visto i miei video Allora, praticamente funziona che tu, no, devi sopravvivere su questo pianeta per ben 24 ore Esatto, avete capito bene 24 ore E praticamente ti spawnerà un SCP a caso Cioè, diciamo, ti spawneranno degli SCP E tu dovrai sopravvivere su questo pianeta incredibile, spaventoso, magico e tutto quanto E questa volta è tutto rosso Vedete? Tutto, 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 tutto quanto rosso Porca miseria Dobbiamo stare attenti, edunisiani Ah, vedete? Qua praticamente il pianeta ci fornisce sia i materiali che tutto quanto, diciamo Ecco, per esempio qua ci ha fornito anche la pietra Che possiamo, diciamo, possiamo prendere la pietra per poi poter prendere addirittura i blocchi di ferro Cioè, voglio dire, ma porca di quella miseria Sono davvero spaventorisissimi questi blocchi in ferro magici e giocondi Sto impazzendo, dite? Potrebbe darsi Potrebbe essere come potrebbe non essere, insomma Voi cosa ne dite? Dite di sì Allora, però, mi scusi, signor pianeta Lei si deve svegliare un pochino perché io non è che... Vabbè, ok Facciamo così, dunisiani, perché se no Poi dopo qua stiamo a un'altra mezz'ora perlomeno Quindi prima di tutto prendiamo immediatamente questo piccone in pietra e iniziamo a scavare E questo già, vedete, porca miseria ci dà Ci dà praticamente un sacco di ferro Già 3 per 9 fa 27, giusto? Giusto? Vediamo 27 Sono stato bravissimo Non me l'aspettavo Allora Ora con quest'altro piccone in ferro No, perché dovete sapere che io faccio schifo in matematica Cioè faccio fatica anche a fare 2 più 2 Scherzo, cioè Quello lo so fare Il resto no Vabbè, insomma, praticamente Adesso possiamo prendere tutti questi diamanti Che il pianeta ci ha gentilmente fornito Perché appunto debbiamo sopravvivere a questa nottata Gli SCP Porca miseria, dunisiani Dovemo stare tutti quanti attentissimi Perché se no non stiamo attenti Dopo Andremo a fare una brutta fine Non vogliamo fare questo, giusto? Non vogliamo morire, ma Insomma, non vogliamo morire su Minecraft, no? Ovviamente su Minecraft si parla Perché non è che Cioè, ovviamente, no? Dico io, ovviamente, su Minecraft Prendiamo tutti quanti questi diamanti Però, allora, scusate Questi SCP quando è che arrivano? Domanda Perché io qua vedo ancora che Eh In realtà è ancora a mezzogiorno, eh Forse dopo Facciamo anche un taglio Perché così, capito? Arriva la notte E affrontiamo gli SCP Più spaventerribili dell'universo Magici e spaventosi Come una scrofa Eh Insomma, no? Ah, e poi questo pianeta Secondo me ci fornirà Anche 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 Diciamo Eventuali attrezzi Cioè, se tipo Ci vuole dare la telekill Ma io non so se ce la vorrà dare Eh Perché non so Però se ci vuole dare la telekill Ce la può dare Però ce la darà in una cesta Quindi dobbiamo controllare bene Tutto quanto, ok? Ora abbiamo il piccone Adesso ci facciamo anche L'armatura, eh Una cosa bellissima questa qua E facendo così In teoria Si fa tutta l'armatura Vedete, mamma mia Una roba pazzeschissima No 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 Perché Ho fatto tutto Ma io direi che un altro po' di diamanti Me lo prendo, eh Poi facciamo un taglio Perché Sapete È sempre meglio avere che non avere, no? E soprattutto quando se ne hanno così tanti È meglio prendere Prenderne un sacchissimo Porca misera Talmente tanti quanti che Non riuscite Non contate più dopo Cioè nel senso Non riuscite più a contarli Dite Quanti ce ne sono? 300.000? 347.000? Quanti ce ne sono? Eh non lo so Adesso però facciamo un taglio No Duniziani No, 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 no Cos'è questa cosa? Eh Allora Mi sembra Mi sembra in realtà pacifico Ciao Eccoci Non dovevo piccarlo Perché l'ho piccato E adesso mi ammazza Lo sapevo Lo sapevo Non dovevo piccarlo Mannaggia a me Mannaggia a me Che adesso Adesso mi rincorre Un tizio strano Veloce 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 Via 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 Oh mio dio Allora io vi ricordo che la sfida degli SCP Prevede una cosa fondamentale Prevede di distruggere Di uccidere Qualsiasi SCP Si metta davanti Questi SCP Dovemo comunque uccidere Anche se sono buoni Quindi Com'è che facciamo Ad uccidere quel tizio Che adesso Quella ci fa fuori Ecco 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 Questa cesta non c'era Ecco questa Grazie 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 Perfetto Allora questo è il pianeta Che ci ha fornito Il Diciamo Avevo rotto tutto per qualche secondo Chiedo scusa Stavo dicendo Questo è Questo è il pianeta Che ci fornisce Diciamo La protezione No Perfetto Siamo pronti per uscire Ed uccidere questa Guarda che secondo me Mi ucciderà lui A me Oddio 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 Allora Facciamo così Perfetto Ce l'abbiamo fatta Perfetto Allora Forza adesso Il pianeta Ci darà un altro SCP Di solito ce ne sono tre a notte Ma Non sappiamo quanto ce ne possano essere E io sinceramente ho paura Ci vediamo subito quando Ci sarà il prossimo SCP Eh mi sa che Eh no 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 Oh mio dio Ma avete sentito che cosa Che verso schifoso Che ha fatto Porca miseria Oh mio dio Questo SCP è molto pericoloso Dunisiani Allora cerchiamo di Di sconfiggerlo comunque Perché dobbiamo Eh è qua È qua fuori Mi sa che sto facendo una cavolata pazzesca Porca miseria Oh mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Io seriamente Meno male che abbiamo L'armatura in diamante Altrimenti qua Eravamo finiti Dunisiani Cioè veramente Eravamo fuori Completamente Ma che razza Di SCP Era quello Mi fa schifo Oh mio dio Ho paurissima Ho paurissima Vi prego Oddio Vabbè Allora forza Passiamo al prossimo SCP Chissà quale SCP Ci sarà ora Mannaggia Che paura Dunisiani Dunisiani Cosa Cosa Caspita È questo Coso Allora A me sembra Una specie Di dinosauro E secondo me Sembra Sembra Che stia Dormendo Quasi Ma fa qualcosa Ma allora Scrivetemi anche Nei commenti Se conoscete Questi SCP Perché io non so Oh mio dio No 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 Allora Allora Dunisiani Questa armatura in diamante Ci sta salvando Ci sta praticamente salvando La vita Sempre Sempre Cioè Voi vi rendete conto No vabbè Io Io mi sto cagando addosso Vediamo se arriveranno Altre SCP Se arriveranno Altre SCP Ve lo farò sapere Oh mio dio Io sto qua Adesso basta Non esco più Finché Finché non lo so Finché non apparirà qualche altro verso di SCP strano Oddio Ok È passato un bel po' di tempo E secondo me Ormai È diventato giorno Esatto Oddio Meno male Mamma mia No veramente Scusate Dunisiani Ma è stato Un parto Cioè questa notte è stata veramente un parto Porca miseria Per fortuna che abbiamo avuto questa Questa armatura in diamante Soprattutto la tele Che con Un colpo Siamo riusciti ad uccidere tutti quanti E tranquilli Ho usato l'attacco secondario Quindi l'ho rimosso tutti quanti Ho rimosso tutti gli SCP Non vi preoccupate Anche se in realtà Questo mondo ormai Penso che sia Pieno Pieno Così di SCP Proprio veramente Una roba pazzesca Quindi Dunisiani A parte la paura È stato molto inquietante Scrivete Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Così Video al cuoricino Scrivete SCP Vattene via Così SCP Vattene via Ci sta No Quindi Ci vediamo al prossimo video Ciao Dunisiani Ciao